Oggi presentiamo le nostre uova per la nostra campagna pasquale. Raccogliamo fondi per la ricerca soprattutto, ma anche per sostenere gli ammalati e le famiglie degli ammalati che assistiamo. L'offerta minima per le uova è 12 euro. Poi a discrezione delle persone che vengono possono anche lasciare un'offerta che andrà sicuramente a buon fine. Siamo nelle piazze maggiori di Palermo da oggi fino a domenica. Vi aspettiamo ovviamente. Siamo qui per dare il nostro contributo e supporto alle persone che volessero chiederci qualcosa rispetto alle nostre attività. Noi supportiamo i pazienti, facciamo chiaramente curiamo i pazienti. Sono insieme al dottore Rizzuto e da quest'anno si è creata questa iniziativa, si è aperta l'iniziativa di creare un punto d'ascolto per il paziente, per chi volesse chiederci delle informazioni. Tante persone magari non sanno a chi rivolgersi o se lo sanno hanno magari un po' come dire di timore, però noi così ci facciamo, è qui una presenza per indicare che possiamo essere aperti a tutti.